Un saluto a tutti e ben ritrovati a The World 225, nuovamente sulla nostra Qing China, su Ezio Firewall 4. La nostra guerra contro i giapponesi stava andando, diciamo, benino, stavano avanzando in Cina, loro stavano perdendo contro i cinesi, e... nulla. La Spagna Repubblicana sta ancora combattendo e la Germania ha timrollato tutta l'Europa. Allora, andiamo a combattere, andiamo a combattere, vediamo qua se riusciamo, qua hanno 11 divisioni e stanno scappando, attenzione, attenzione. Attenzione, please, stanno cercando di ritirarsi, evidentemente hanno bisogno, ne hanno bisogno in Cina, hanno bisogno di Cina, si stanno ritirando dappertutto, no qua non si stanno ritirando, evidentemente hanno deciso, no lo so, queste sono le classiche cose che succedono quando ricarichi la partita. Allora, shutdown, anti-communist step. Cosa abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno di fare qualcosa, no, abbiamo già abbastanza advisor. Perché abbiamo parecchi comunisti in nostro paese, beh, 13% di comunisti è preoccupante. Ban-communist, cosa cambia tra questo... Communist infiltration, anti-communist. Defeated, via, sciò. Spuse via. Veloce, veloce, riprende i porti, tu attacca. Dai che sono fuggiti tutti, fuggono! Questa fetenzia! Tu, per cortesia, avanza lì. Kind of Romania, cede Bessarabia. Bene, 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 sono scappati con la coda tra le gambe. Ah, vedi che li hanno portati... Ce la posso fare? Se ce la posso fare, sono un mito. Appena tu ti sei mosso lì dentro. Rapido, rapido a prendere il porto, tu. Non abbiamo nessuna motorizzata, d'altronde. Dai, qua il 96% sarebbe davvero il top. Sarebbe il top del top. Qua stiamo reclutando sempre Fanti. Merda, ci hanno contrattaccato, però abbiamo preso il... Cosa. Però mi sa che i giapponesi... Quante divisioni hanno i giapponesi? Tra le 34 e le 90. E non, per se pare... Oh, bene! Wow, forse chiudiamo la Corea. Forse chiudiamo la Corea. Vai, Falkenhausen, non ti fermare. Falkenhausen, Falken, Falkenhausen. Qua sono avanzati, dai bastardi. Ci conviene fare così. Vai, proviamoci. Uh, qua i giapponesi, i cinesi stanno ammazzolando tra di loro. Chiudiamo questo porto. Poi tocca a noi contro i cinesi. Sono scappati. Nationalist Spain joined axis. E meno male che avevo scelto la Spagna neutrale. Ho capito cosa è successo. Ho capito. Questa cosa che la guerra civile spagnola è andata avanti così tanto, ha fatto sì che la Spagna... ha fatto sì che la Spagna gioinasse l'asse. Vediamo se gioina anche la guerra contro la Francia. Ho capito. Eh, perché solitamente quando finisce la guerra civile spagnola gli parte il modificatore. Vabbè, ogni partita è bella perché è diversa, tra virgolette. Qua non puoi cadere. Allora, manda la cavalleria tutta assieme. Qua tu non reggi, vero? Qua tu non reggi, qua tu non reggi, qua tu non reggi. Merda. Ci avevamo provato. E non è andata a buon fine. Ok, i cinesi stanno avanzando. Non è qua avanzando, ci prendiamo le fabbriche. Però qua nanchino stanno avanzando l'oro qua giù, eh. C'è a dirgli questo. Ce l'avete rotto il cazzo. Allora, tu 15 unità le metti tutte qua. Ok, tu vai a chiudere tutti questi porti qua. Praticamente ormai è una guerra di logoramento vera e propria qua. Ok, tu fai così che riduciamo il front. Tu vai già che andare qua. Ok, nuove armi le produciamo molto volentieri. Ci manca un sacco di... Di risorse, ma non importa. Type 40, munizioni mi va bene. Lì hanno una divisione addirittura. No, no, no. Adesso li circondiamo noi. Facciamo un bel sandwich. Facciamo un bel panino col sandwich. Questa è stata abbiamo ridotto ancora... Ok. Ok. Eh, tra virgolette... È quasi finita qua. Si tratta di... Attendere. Vediamo se la Spagna gioina la guerra contro la Francia. No. Ha solo gioinato l'asse, ma non gioina la guerra. Forza speciale ricerchiamo in montaniera, che fanno sempre comodi. Dettagli, chi va bene. Ricercami la computing machine. Eh, qua puzzate un po' di sterco adesso voi. Mi sa che han capito di nuovo, di nuovo, di nuovo. Fuggono. Corea, si stringe il cappio sul Giappone. Si stringe il cappio sul Giappone. Oh, 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 oh. Si stringe il cappio sul Giappone. Oh, 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 oh. Qua potrei dare l'offensia. Ma voglio che si scontrino il più possibile Giappone e Cina. Perché ovviamente qua continuano a perdere divisioni. Più si scontrano Giappone e Cina, più noi ne avvantaggiamo. Perché noi siamo in guerra, ricordiamoci. Noi siamo in guerra anche con la Cina. Quindi non dimentichiamoci questo. Però abbiamo preso la Corriere ed è straordinario. Allora, questo a te adesso hai un ordine ben preciso. Uno. Non voglio invasioni. Due. Tre. Quindi Uno. Due. Due. E anche a Seoul. E anche l'esercito coreano. Vai là. Tu vai lì. Perfetto. Sono sbarcati qua, sti qua. Ehi, ue, 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 ue. I amme belle, qua sono sbarcati. Hanno portato qua le truppe della Corea. Inizia a attaccare questo, tu però. Giorniamo l'anticomo interno oppure no Giorniamo dai comunisti mi sono sul cazzo Dovremo attaccare anche Shanks adesso Mi sa che il Giappone is kaput No 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 Voi tre venite li A questo punto anche la divisione venga li Ok chiuso il fronte coreano Non dico che siamo a posto ma E' come se lo fossimo Qua stanno ancora avanzando Ok offensiva lì Ok bene hanno fatto la cazzata di volersi ritirare Anche dalla corea e ne abbiamo approfittato immediatamente Good job Giappone Panico giapponese E tu ti vai già a unire a questi Anzi le imperiali No manciure d'Amshon no Questi si vanno già a unire Laggiù Due cavallerie vanno già lì a pattugliare Seul Benissimo Anche tu ti metti qua E adesso tu che una volta Vabbè devi pulire assolutamente qua Adesso ti faccio venire lassù Ok i giapponesi che stanno Oh pensavo fosse una laggata Giapponesi che non mollano comunque Nonostante tutto Non mollano l'osso Combattono come dei leoni Leoni di Lernia Che poverino è pure morto qualche anno fa Nuove fabbriche Continua a produrmi assolutamente Fabbriche militari Abbiamo bisogno di più fabbriche militari possibili Adesso mi divertirò a far così Push the attack Perché non pushano? Qual è il problema? Avevamo paura non c'è nessuno Cazzo di povera c'è da avere Qua non c'è nessuna divisione lì però Allora Falkenhausen Torni Lì Qua ci mettiamo Gigetto Move the capital A Beijing In Trio abbiamo avvicinato la capitale Ai problemi però Allora continuiamo magari la cosa Del Chinese General Staff Questi stanno capitolando Non capisco perché il giappone non li attacchi ma me lo fa fame Me lo faccia fame Trio a questi capitolano adesso Trio a questi capitolano adesso Incredibile amici Incredibile amici Il giappone ha sette E' come i gatti E' meglio Il giappone è meglio Non sottovalutarlo E signori Che cazzo state facendo? Dai veloci Che mi servite voi Avessi una flotta Potremmo quasi pensare di invaderla Ok Trio a Shang si è Capitolato Giappone sette vite King China qua Non muore mai La Germania che non fa nulla Non combatte nemmeno con la Spagna Che è sempre lì che si bastò la nota di loro Compensa in guerra con la Francia Guerra silente Questo mi piace che sia rappresentato Quanto meno Nulla da fare sul fronte norvegese Non ho mai visto la Germania riuscire a prendere la Norvegia No Una due volte si l'ho visto Dove essere sincero due volte l'ho visto Nuove divisioni vanno a Falkenhausen Come giusto che sia Falkenhausen Falken Falkenhausen Tu stai andando lì Bene Lux Mi stavo dicendo Eh guarda non attacca nessuno Lussemburgo Oh cazzo Devo rallentare a due Un attimo Ma questi qua Mangia sushi di merda Allora qua bisogna lanciare l'attacco Non appena lui finisce Ora Boom Controattacco con successo Ok German Reich Poi vediamo come va la situazione Adesso non ci interessa Ok tu adesso ritirati perché non vorrei che ti Tagliassero fuori Ok Voi cosa state aspettando a far fuori tutta quella parte Dai Holy shit abbiamo perso una divisione Santa madre di Dio Abbiamo perso una divisione Ma questo perché continua ad attaccarmi che sta morendo Perché Ok tu Che hai fatto strada Hai fatto anche gloria Gloria a Dio Nell'alto dei cieli Gloria ai minghi In pace e in terra Tu vai attaccare i comunisti I comunisti Bastard Ops abbiamo un po' troppe divisioni In reclutamento Non vorrei Che le mie truppe patissero Patissero brutte sofferenze Quindi Cancella le tutte Sì Ok Gloria ai minghi Nell'alto dei cieli E pace a te Oh nianchino continua a resista È incredibile Gloria a te Negli alti dei cieli Tu ti devi dare una mossa Falke nausen Nell'alto dei cieli Grande Falke nausen Miriamo a nanchino Un po' porcellino Miriamo a nanchino Un po' porcellino Cosa vuoi? Levati Falke nausen Falke nausen Falke nausen Low legitimacy Presto torneremo a essere Alta legittimità Overrun Bitch You have no choice But die Dai 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 Comunque i cinesi peggio dei giapponesi Quanti morti hanno avuto Current wars Chinese Hanno avuto 3 milioni di morti Un milione di giapponesi E noi quanto siamo? Noi siamo a 300.000 morti Contro 300.000 giapponesi 3.000 cinesi Che sono morti così A cazzo Ub katsum kanis Ub minchiam Non stiamo producendo nulla di queste cose qua sotto Molto male Dobbiamo iniziare a importare Un po' di metalli Posso importare dall'unione delle repubbliche socialiste sovietiche O dagli stati uniti d'america Mi servono 10 E ci servono 40 Quindi L'unica soluzione è importare dalla Russia Perché almeno Portiamo tutto dagli sovietici Purtroppo Mi tocca importare dagli sovietici Belgio join agli alleati Tu muori male E di nuovo qua i cinesi Vengono respinti Direi che qua appena Falkenhausen Ha più spazio Possiamo attaccare per benino Ok direi di velocizzare a 3 E di aspettare che si dispongano sul fronte Falkenhausen Falken Falkenhausen Qing China Di incominciare a essere bella grossa di nuovo Qua in Italia posso mirare direttamente a Nanjing Netherlands è già capitolato Andiamo a vedere un po' Republican Spain Che sta da quando è entrata la Germania Ah perché in guerra contro E tu sei aggiornato gli alleati No Non hai aggiornato gli alleati Perché sei comunista Ok Nederlanda è già capitolata Così vedersi e capisci Siamo a maggio del quadro Comunque abbastanza storica Come è data No Perché attaccate sulla linea Immagino Non fatelo Mi fa male gli occhi Vedere che attaccate sulla linea Immagino Se hai aggiornato l'asse Ui boh La Spagna È scaput Mi fa male gli occhi Vedere che attaccano sulla linea Immagino Perché non attaccate dal Belgio Vabbè non andiamo a guardare Non voglio guardare Non voglio guardare Non voglio guardare Ok Tu sei arrivato Ti disponi Solo più in qua Falkenhausen Tu cosa stai facendo Iberian region Cazzo me la ferra dell'Iberian region Stiamo scherzando Non è che li chiudiamo questi Non è che li chiudiamo Beh direi che i giapponesi Stanno concentrando sui cinesi Perché stanno facendo Mambassa qua Non c'è più nessuno Volevo attendere un attimo Ma Lussemburgo è capitolato Alleluia L'Italia che sfonda È come al solito Perché la Francia Sta pace È in grado di gestire bene Ma poi attaccano sulla magina Perché Ho paura di vedere i morti Che ha la Germania German South African War La Germania ha già 300.000 morti La Spagna un migliore Ma la Spagna non conta dai La Spagna non conta Nel computo Qua hanno sfondato Forse 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 hanno sfondato Mentre i giapponesi I cinesi Non va bene Vai falche Tempo di avanzare va Tempo di far capire A sti Sovietiske Scam Chi è che comanda Addirittura L'emotorizzato Possiamo produrre Vai falche Senza pietà Hanno i marini in montagna Intelligenti Giapponese Vabbè direi che qua La guerra sta avvolgendo A nostro favore Anche se il Giappone Alla fine con un colpo di reni Riuscita a prendere Tutta la costa Colpo di reni Giapponese Colpo di reni Che ha poco service Però ti dimentichi Delle divisioni Qua nei monti Tibetani Ok avanzata Su tutto il fronte Verso Nanchino Andiamo a reclamare Il Mandato Fiven Oh Giappone Non romperci I coglioni Oh Giappone Non romperci I maroni L'Italia sfonda La Germania no In Africa È abbastanza stabile Ma La guerra Tutto sommato Istian Africa Qua Se la combatte Se la scialla Che offensiva Da parte dei giapponesi Perché qua Se l'hanno fatta Si vede che tu Non sei falkenhausen E che non hai combattuto E che abbiamo rischiato Di perdere la guerra Di Corea Perché tutta è così Dai Falkenhausen Falken Falkenhausen Basta fare Sto attacco Suicida Abbiamo un bel po' Di divisioni Quante artiglieri abbiamo 450 No preferisco sempre Addestrare Anzi preferisco Fare edit Duplica Lo chiamiamo Kun Jun Jun Del 1940 1940 Non sei un Garrison Ma sei una Infantry Division Save Anche tu sei un Infantry Division Va bene Edite ti aggiungo Dei battaglioni di fanteria Vai a 26 Ok ti aggiungo Della fanteria Ti aggiungo Della fanteria Artillery Artillery Vai a 32 Mannaggia a te Mannaggia Remove 30 Vai Save E ne addestriamo Un paio di queste Ne addestriamo Un paio di queste Adesso ci stiamo dentro Abbastanza sobri Ci stiamo dentro Abbast... No Non ci stiamo più dentro Abbastanza sobri Armi regroup Mettiamo tutta roba Per la fanteria Perché tanto Communist China In Japan Non ha insegnato Una pace bianca What? What? What the fuck Come ti permetti How do you dare Questi attacchi suicidi Dell'intelligenza artificiale Che non capisce Quando deve attaccare Comunque Dei che Per questo episodio È tutto Le cose Vanno bene Vanno a dire Abbastanza bene Andiamo a dare un'occhiata Uh L'Eastern Africa È stata divisa In due L'Italia però avanza qua Mentre la Germania Uh Mi sa che ha preso Un pezzo di linea Magino No Non è vero L'Italia sta avanzando Qua sono addirittura Sbarca Come cazzo hanno fatto Arrivare lì? Ho paura Guardare le vittime 300.000 Vabbè dai Pesavo peggio Francia 90.000 No faction Ha preso un milione a testa Tra nazionalisti e repubblicani Wow Wow Republican Spain Intanto Republican Spain Noi stiamo andando sempre giù Per il Chinese Staff General General Staff Mi piace Tank plant Anche qua andiamo giù Per i panza Chinese panza Chinese panza One China policy Asset our authority E mi piace Direi che per questo episodio è tutto Io vi ringrazio per l'attenzione Da Più 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 E' tutto Ciao ciao